Una volta a settimana Tania fa la spesa per un'anziana del suo quartiere. Fa volontariato per la piattaforma Aiuta gli Anziani, una delle iniziative sorte nel Regno Unito per sostenere le persone che sono state isolate dalla pandemia. Quelle che hanno bisogno di aiuto e non sono in grado di prenotare le consegne sul sito web Help the Elderly. Li aiuta un volontario che viene loro assegnato. Un'altra iniziativa è Dare to Care, che fa parte di un gruppo di imprese legate alla London School of Economics, anche i familiari possono chiedere aiuto per avere una spesa di genere alimentare a settimana. Esistono misure di sicurezza per garantire che il Covid non si diffonda. Quando abbiamo prodotti in magazzino vengono subito ripuliti con salviette antibatteriche, operazione fatta da volontari con i guanti. Poi i prodotti sono stoccati in un'area disinfettata, spiega il cofondatore di Dare to Care. L'ottantenne Maureen vive nel centro di Londra in isolamento totale. Le persone, queste persone, sono state meravigliose, davvero. È ritornato con lo spirito comunitario che avevamo durante la Seconda Guerra Mondiale. In due settimane Family Meal, con sede a Londra, ha sfornato 5.000 pasti per badanti e per persone vulnerabili della capitale. Per questo risultato sono state raccolte in poco tempo oltre 20.000 sterline. Spero davvero che si apprezzino di più le preparazioni. Si rifletta sulla cultura dello scarto. Il cibo deve essere valorizzato e assicuriamoci che tutti lo abbiano. Adesso soprattutto penso che le persone stiano capendo quanto sia importante averlo, perché quando non c'è si lasciano prendere del panico. I servizi di consegna dei pasti, con piatti pronti e pagati dai clienti, sono immediatamente fioriti durante la pandemia. Per i clienti è un'occasione gradita per smettere di cucinare e farsi cullare da gusti magari più esotici. Ho, 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 che dei buoni!